Tanti ristoranti e bar, tanti turisti, ma per chi vive in campagna la qualità della vita risente di un'offerta più che mai ridotta. La classifica della qualità della vita fotografata dal sole 24 ore restituisce un'Italia che sa godersi il tempo libero, ma fa riemergere anche le antiche contraddizioni tra nord e sud e più ancora tra aree costiere e aree interne della campagna. 12 gli indicatori che rilevano l'attrattività turistica e i servizi. Sul podio sale Napoli, che svetta il terzo posto della classifica nazionale per la presenza di turisti, con una permanenza media di tre giorni. Cresce Salerno, che va alla 38esima posizione, ma può contare su una permanenza media di quattro giorni, grazie anche alle rassegne come luci d'artista. Caserta, 76esima, mentre Avellino e Benevento sono in coda, rispettivamente alla 103 e 104esima posizione, con una permanenza media dei turisti di due notti, confermandosi mete di turismo a mordi e fuggi, soprattutto per le gite fuori porta. E infatti Benevento sale al 28esimo posto dell'elenco nazionale per numero di agriturismo. Ce ne sono 85 ogni mille chilometri quadrati. Per quanto riguarda il numero di ristoranti e bar, a sorpresa è Salerno, la città campana che offre di più. 19esima in Italia, con ben 748 locali ogni 100.000 abitanti, rispetto a Napoli che si ferma a 566 esercizi ogni 100.000 abitanti. Male, anzi malissimo, tutto ciò che riguarda l'offerta culturale, dalle librerie ai cinema, dalle mostre ai concerti, passando per gli spettacoli teatrali che addirittura vedono Avellino all'ultimo posto tra le 107 province italiane. Anche se va detto che l'unico teatro della città, il Gesualdo, è rimasto chiuso per molti mesi. Infine lo sport, l'offerta di Napoli, nonostante le universiadi, rasenta lo zero. E non esultano nemmeno le altre quattro province, a dispetto di quelle del nord, che offrono strutture e spazi adeguati.